Per il CONI la pista calda è quella di Milano e questo calore scioglie le speranze delle Dolomiti. Oggi una svolta nel percorso delle candidature italiane è l'organizzazione per le Olimpiadi Invernali del 2026. Con un comunicato ufficiale preceduto da alcune indiscrezioni uscite dalla propria sede romana, il CONI ha ufficializzato la candidatura di Milano-Torino rivelando di avere già inviato una lettera al CIO, Comitato Olimpico Internazionale. Lettera in cui cita anche, per inciso, uno studio di fattibilità commissionato un paio di mesi fa a una società specializzata che distribuirebbe le gare tra Milano, Torino e Bormio con le gare di fondo al Castello Sforzesco a un chilometro in linea d'aria dalla Madonnina del Duomo. Insomma, forse la rincorsa partiva da lontano. A Cortina si ostenta ancora sicurezza nonostante lo schiaffo arrivato a poche ore dal Consiglio Comunale per la formalizzazione della disponibilità alla candidatura olimpica. Il CIO si era già detto poco incline ad assegnare le Olimpiadi invernali a città che le avessero già organizzate. Torino le ha ospitate nel 2006, Cortina nel 1956. Torino però avrà una chance da spalla. Milano non può fare a meno di alcuni impianti già presenti in Piemonte. Ad affossare il progetto dolomitico invece sarebbe stata anche l'irritazione del CONI nei confronti della gestione dello sviluppo infrastrutturale per i mondiali DC del 2021. Detto in modo netto, sono partiti troppi pochi cantieri e i tempi stringono. Ma non ci sono assolutamente ritardi. I due pacchetti che riguardano gli interventi sulle piste saranno ultimate per fine 2019. E per quanto riguarda invece le opere stradali? La settimana dopo Pasqua comunque avrò un incontro anche con il professor Cascetta e quindi il ministro del delegato di ANAS per fare una verifica sulle tempistiche, però non siamo abbastanza fiduciosi. Né Cortina né la regione molleranno la presa. La scadenza per le manifestazioni di interesse è fissata per sabato. Posso fin d'ora affermare, commenta il governatore del Veneto Luca Zaia, che lavoreremo e ci batteremo a testa bassa anfinché il nostro dossier sia valutato con lo scrupolo e l'attenzione che si deve a un contesto che è simbolo della montagna e della natura in tutto il mondo. Non siamo qui per fare la guerra a nessuno, ma non abbiamo alcun timore a confrontarci con chi che sia.